all'angolo blu thomas nigru che è già combattuto nel primo incontro combatterà di nuovo angolo blu thomas nigru un bel applauso di incoraggiamento visto che è il secondo match per questa sera eccolo qua allora angolo rosso matteo raffaele bomberino grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti! Stabilizza lì che non c'è niente. Prenditi le tue mani, vinci con la spalla sinistra, prega di liberare, non c'è niente. E poi vai a dare confusione. Esatto, guarda la schiena. Su, 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 schietti qua, di piedi. Ok. Prego la parola, prego la parola, prego la parola, prego la parola, prego la parola. Prego la parola, prego la parola. Ok. Ok. Prego la parola, prego la parola, prego la parola, prego la parola. Vai, 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 vai. Passalo, passalo. Vai, raspa, 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 raspa. Rassalo. Dipendi, 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 dipendi. Di pe? Di pe, esatto. Ok. Stai, vincendo, vincendo, vincendo. Tanti, 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 vincendo. 30 secondi. Brava. Vai, prova a raspare con la chiusura. Matteo. Vieni su. Vieni su. Vieni su. Vieni su, vieni su. Vieni su. Vieni su. Vieni. Un bel applauso a questi atleti! 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 un applauso agli atleti, bravissimi bello applauso allora vince per verdetto unanime angolo rosso Matteo Raffaele bell'applauso bravissimi